Cosa sarà questo corso? Sono quattro incontri live di due ore ciascuno in cui impareremo la filosofia dello yoga e praticheremo le posizioni più importanti. Contemporaneamente miglioreremo il nostro italiano, il vocabolario, la comprensione, la lettura e anche il nostro parlato. Quando sarà? Tutte le domeniche di settembre, il 3, il 10, il 17 e il 24 settembre, dalle 18 alle 20, ora italiana. Dove sarà? Ci incontreremo su Zoom. Attenzione, per un motivo di gestione il corso è aperto ad un massimo di 12 persone, quindi ti invito a cliccare subito su questo link dove troverai tutte le informazioni e potrai iscriverti. Ti aspetto!